Io sono in MBO e ho fatto parte di un examinatore e ho fatto un MBO e ho fatto parte di On The Naming Hub e ho fatto un progetto e ho fatto un prodotto che non puoi vendere e poter essere arrivato al mercato. Come vai? La maggior parte dei studenti ho fatto un pari di 20 anni e ho fatto un gruppo di 4-5 e ho fatto un prodotto e ho fatto un parto essenziale e ho fatto un prodotto per vendere e mercarare e ho fatto un po' molto buono. Ho fatto un po' molto buono per il mercato. Noi, tu vieni a fare un negozio, ma è importante che i raggiungi a comprare un negozio? Si, è vero. Come si è iniziato a fare un po' molto piccolo, non è iniziato a fare un prodotto nuovo e poter essere parte di intrapreneurship in On The Naming Hub. In On The Naming Hub è un po' molto importante che i raggiungi a comprare un prodotto che non sa nulla e poter essere un èxito rotondo. Vieni a usare un prodotto di bosanino che ci sta presentando un negozio che ci sono prodotto che non sa l'acqua della Nbeo tell'ci di frottie che cosa cosa com'l si è iniziato? Il nome delle frottie è un sogno di madre che c'e' la mia collega quindi noi ci sono usati un nome per la motivazione di sua mamma. Quali produttori da Kiko Turbo San a creare? Noi abbiamo tiramisu normal, noi abbiamo tiramisu special, abbiamo 3 lecce di cacolati e tutto normal. Questo è un progetto di scol, per creare un negozio, questa è parte di undernaming. Questo è tutto il processo che abbiamo fatto, ora abbiamo bisogno di un obiettivo, per fare un team, per fare un'idea. Nel primo, abbiamo scoperto che tutti i partecipanti perché non abbiamo comunicazione, con noi abbiamo bisogno di un altro luogo. Ora abbiamo bisogno di una tarea, non abbiamo bisogno di un luogo, per fare un luogo, invece la piazza non stacce sui. Quindi abbiamo bisogno di un luogo. Abbiamo bisogno di un luogo per fare un luogo. Quali produttori di i bambini? Sì, benissimo. Abbiamo già abbiamo bisogno di un luogo per fare, anche per fare un luogo. Sono preparato per fare un luogo, per fare un luogo per fare cose. Quanto gente ha fatto il team di Ibo total? Cinco. Con il trabolo vabbè, è stato un momento che viene con voi portare a prendere le idee, con la ripartire il trabolo. Ci sono due, dove vanno comprare cose di tiramisu, tre lecce, e altri fintagogi. Ci sono due, quindi ci sono due, ci sono due. Ci sono due, ci sono due. Un mensaggio per i ragazzi che stanno guardando? Se ti ha fatto un sogno, perché facci qualcosa senza miedo, perché il miedo non ci sono lasciato in vita. Buon tardi, buon noto, che ci sono per la vista. Conta il tuo nome? Zara, in mezzo di classe di BAC. Conta me di BOSNAN, ma anche la compagnia di BOSNAN, e BOSNAN, e BOSNAN, e BOSNAN, e BOSNAN PRODUCTO. Come, come gruppo, sempre ci sono i programmi, sempre di BOSNAN, sempre di BOSNAN, per qualche giorno, per qualche giorno, ogni giorno, per qualche giorno, invece, invece, questo è un progetto attivo, ci sono più gente, se ne conoscevamo il prodotto. Siamo una banda di un gruppo che ha anche una cosa quasi similare con una duccia come? Come si guarda la competenza? Non si guarda la competenza ma si guarda la competenza e il mio gruppo. Si guarda il tuo prodotto? Si. Sì, sicuro è un buon contesto. Grazie e è successo!